La regione tenta l'ultima carta contro le trivelle, limiti alle estrazioni e un parco marino per bloccare Ombrina Mare. Sanità, martedì seduta straordinaria del Consiglio sul decreto Lorenzin e le ricadute in Abruzzo. Autoporto di San Salvo, Smargiassi chiede ad Alfonso di recuperare l'infrastruttura. Milano, a casa Abruzzo, una mostra sui tesori della Marsica. L'Aquila in 30.000 all'edizione 2015 del Festival della Montagna. Seduta del Consiglio regionale interamente dedicata alle iniziative per contrastare l'installazione di impianti di estrazione petrolifera nel mare antistante e litorale abruzzese. L'Assemblea è approvato il progetto di legge alle Camere presentato dal Movimento 5 Stelle, che punta alla cancellazione degli articoli dello Sblocca Italia e del Decreto Sviluppo, che di fatto danno il via libera alle trivellazioni in Adriatico. Via libera infine alla legge regionale, che prevede il divieto di ricerca ed estrazione petrolifera entro i limiti di 12 miglia marine dalla costa. L'istituzione di un parco regionale marino di fronte alle coste di San Vito Chietino e Rocca San Giovanni, esteso per 6 miglia dal litorale. È stata invece rinviata alla seduta di martedì 13 ottobre per consentire un approfondimento degli aspetti economico-finanziari del progetto. Si terrà martedì 13 ottobre alle 11.00 il Consiglio regionale è convocato in seduta straordinaria per esaminare il recepimento del Decreto Lorenzin e le relative ricadute sul sistema sanitario abruzzese. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo. La richiesta è stata depositata dai gruppi consigliari di centrodestra Forza Italia, Nuovo Centrodestra e Abruzzo Futuro. Intanto l'assessore regionale della sanità Silvio Paolucci è stato ascoltato in audizione in Commissione Sanità proprio sulle proposte di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale circolate negli ultimi giorni che hanno suscitato un acceso dibattito politico. Paolucci ha tracciato una visione di insieme senza però entrare per ora nelle specificità territoriali. Intanto il presidente merito della regione Gianni Chiodi, consigliere regionale di Forza Italia, annuncia di aver richiesto l'accesso agli atti al Ministero della Salute per verificare se corrispondono al vero i rilievi sui nuovi contratti applicati alle cliniche private. Il riferimento è all'eliminazione della clausola relativa ai tetti di spesa per le prestazioni che sarebbe stata censurata dal Ministero. La vicenda, se confermata, per Chiodi dimostrerebbe come l'attuale governo regionale procede in modo opposto a quanto portato avanti dal centrodestra che aveva imposto limiti rigorosi ai budget delle cliniche. Il Tarabruzzo ha disposto la riammissione dell'istanza della leader radicale Rita Bernardini per la candidatura alla carica di garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Per il presidente del Consiglio Giuseppe Di Pangrazio il giudice amministrativo ha disposto che la valutazione delle candidature ai fini della nomina resti di competenza dei capigruppo consigliari. Ho già informato tempestivamente la conferenza conclude Di Pangrazio affinché sia subito trattata la questione per procedere alla nomina del garante. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Pietro Smargiassi, si è rivolto al presidente della regione Luciano D'Alfonso per contestare il progetto portato avanti dal comune di San Salvo in collaborazione con la FE, il Consorzio Industriale e la Pilkington per la gestione dell'area limitrofa allo stabilimento dove si trovano le strutture dell'autoporto, abbandonato da anni. Per Smargiassi sarebbe auspicabile, piuttosto che destinare nuove risorse su un progetto ancora da realizzare, dirottare le stesse sul ripristino dell'infrastruttura. Si è conclusa ai tesori dell'ex lago la mostra dedicata al Fucino e al suo territorio che si è tenuta nei giorni scorsi nello spazio Casa Abruzzo a Milano, allestito dalla regione in occasione dell'Expo. La mostra ha ripercorso non solo alcuni frammenti del terribile terremoto di 100 anni fa, ma ha offerto anche uno spaccato dei tesori della Marsica, dai cunicoli di Claudio ad Alba Fucens. All'inaugurazione, insieme al presidente Giuseppe Di Pangrazio e al consigliere segretario Giorgio D'Ignazio, hanno partecipato gli studenti degli istituti marsicani che hanno vinto il concorso bandito dal Consiglio regionale. Sono stati circa 30.000, secondo i dati degli organizzatori, i visitatori che hanno partecipato lo scorso fine settimana all'Aquila alla seconda edizione del Festival della Montagna. Negli spazi espositivi sono stati allestiti stand espositivi di enti, attività specializzate, pubblicazioni dedicate alla montagna e spazi enogastronomici. Per gli organizzatori il Festival della Montagna può e deve essere utilizzato come tavolo permanente di confronto e discussione sulla situazione delle montagne del comprensorio abruzzese. Grazie a tutti.